Ora vi porteremo con noi a visitare un vero gioiello architettonico, la nostra bellissima chiesa dedicata a San Giorgio Mattire. Grazie a tutti. La chiesa, il stile romanico, è dedicata a San Giorgio Mattire, il patrono di Petrella. Risale al XII secolo e nel 1901 è stata dichiarata monumento nazionale. È un importante complesso architettonico, costituito da tre monumenti incastonati l'uno nell'altro e di epoche diverse, un tempio bizantino, uno longobardo e uno romanico. Sul portale centrale, nella lunetta, è inserita una scultura, raffigurante Giona, inghiottito e poi rigettato dalla balena. Prefigurazione della morte e della resurrezione di Cristo, poi un drago e l'agnello crucifero. Il monumento si presenta in forma di parallelogramma. Gli lati maggiori sono doppi dei minori. La lunghezza è di 30 metri e la larghezza di 15. L'interno si presenta a tre navate, chiuse in fondo da tre absti disuguali, di cui la centrale è molto più ampia delle laterali. Le navate sono separate tra loro da robuste colonne di pietra, unite tra loro da archi a tutto sesto. Su tutte le colonne poggia un caratteristico capitello. Tutti i capitelli sono diversi tra loro e decorati con motivi floreali e professionali. Tutte le colonne all'interno della chiesa troviamo scolpite croce a coda di lundine, che sono simili alle croci patenti, che rimandano all'idea avanzata dagli storici negli ultimi anni che nella chiesa siano stati presenti i cavalieri templari e che abbiano custodito la sacra sindone. Il capitello riproduce un mascherone tra foglie e fiori con un'enorme bocca dai lenti aguzzi e di grignanti. Secondo la tradizione storica classica raffigura il marino abbuato o addirittura la stessa bocca dell'inverno. I potessi recendi riportano invece l'immagine raffigurata al green man, l'uomo verde, all'idea dell'albero della vita o a tradizioni popolari legate alla natura. Il capitello raffigura una serena. Le serena e bifide sono immagini corretti nell'altra umanità. Ciò sta a significare la tentazione che ammaria e conduce alla perdizione. L'immagine rappresenta il dio parruzzo che rinforza i cuori a sei petali della creazione. Il dio barbuto è il chiaro riferimento ai templari e dalla Sacra Sindone, la famosa reliquia cristiana conservata a Torino, che nel periodo fra il 1204 e il 1307 fu custodita dai templari. L'altra figura di interessante valore simbologico è collocata sulla base della quinta colonna laterale sinistra. Una figura umana di cui sono visibili il volto e le braccia che tendono verso l'alto. È un uomo che esce dalla sua tomba. È il tema della resurrezione dei corpi, uno dei più ricorrenti rappresentati nella Chiesa. L'alto di pregio è il fonte battesimale, emisferico lavorato in un unico blocco di pietra, con apertura interna di circa un metro di diametro. L'esterno è ornato da girali in cui sono scolpiti fiori a tre petali, che richiamano la Santissima Trinità. A sei petali, che richiamano la creazione, ad otto petali la rinascita attraverso il battesimo. Nel tempetto lungo parto non rimangono che delle inabilissime tracce. È attualmente esistente il sorinaggio meridionale, posto nel contenuto interno della Chiesa. Fu dedicato originariamente a San Michele Arcangelo e successivamente alla Beata Vergine del Rosario e reso comunicante con l'interno della Chiesa parrocchiale. Nel sud del cortinetto si erge la possente mole del Campanile. Sono presenti quattro campane. Una maggiore o di San Giorgio, che pesa 1500 chili e ha un diametro di 119 centimetri. La campana mezzana o del pulgatorio, che pesa 569 chili e ha un diametro di 95 centimetri. La campana mezzanella, che pesa 138 chili e ha un diametro di 60 centimetri. La città inferiore sorge addossata alla Chiesa tra l'Arcide e la Sacrestia. Con l'ingresso, una piccola piazzetta, denominata anticamente l'Arcide e la Chiesa vecchia. È comunemente chiamata Litta di San Giorgio, o è anche Cantina di San Giorgio, poiché si usava in passato conservare il vino o perpe i santi. La città inferiore sorge addossata alla Chiesa vecchia.